Uè non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! E' bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIODER e ragazzi tante novità nel video di oggi che ci portano ad arrivare all'ultimissima settimana di questa season numero 10 ragazzi! Incredibili le cose che sono state scoperte soprattutto anche con l'ultima patch quella di ieri l'ultimo aggiornamento della 9.30 Nel video di oggi ragazzi però parleremo di un glitch non replicabile una cosa incredibile ragazzi che è accaduta poche ore fa e che nessuno riesce a spiegare come sia possibile Neanche quelli di EPIC GAMES! Una roba davvero assurda! Ringraziamo infatti per averla fatta vedere ma parleremo anche della skin segreta! Ovviamente domani ragazzi il novantesimo Fort Byte che potremo ottenere e quindi sbloccare la nuova skin segreta che vi ricordo ha però anche degli stili quindi tanta tanta roba! Ve lo farò vedere e finalmente un po' di aggiornamenti su quello che riguarda l'Arena Trio ragazzi! Il torneo appunto fatto per 3 che inizierà proprio questo weekend! Ma prima ragazzi volevo ringraziare tutti coloro che utilizzano il mio codice creator XIUDERONE! Grazie di cuore ragazzi per supportare il canale ogni volta che scioppazzate di prepotenza mi raccomando iscrivetevi in tantissimi e soprattutto Attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live! Ma prima ve lo devo dire la domandina raga ve la devo fare ragazzi è ovviamente quasi scontato quello che sto per chiedervi ma mi raccomando i vostri commenti qua sotto che ci tengo tantissimo a leggerli! Ragazzi come vi sembra la nuova granata il nuovo attacco aereo ragazzi quella che è stata introdotta appunto ieri con la terza fase della 9.30 Raga secondo me secondo me è assurdo è assurdo è OP ragazzi io ho utilizzato l'attacco aereo anche in game e ho fatto i disastri ditemi ragazzi voi cosa ne pensate se è OP se non è OP se ci sta se non ci sta qua sotto nei commenti Ma quindi ciancio alle bande! E bando alle ciance andiamo subito subito ragazzi a vedere nuovamente uno spezzone di gameplay che non vi avevo ancora fatto vedere del nuovo bundle quello con le skin Versa disponibile ragazzi vi ricordo in tre varianti La variante con la console parliamo ovviamente di ps4 da un terabyte ma la skin sarà ottenibile anche solo con il controller c'è un bando l'apposta controller più skin e ce n'è un altro controller più cuffie Io so i prezzi in dollari so che però arriverà il 24 luglio disponibile appunto in italia e quindi appena si sapranno i prezzi in euro ve li farò sapere anche a voi Volevo farvi vedere questo spezzone però ragazzi di gameplay che è appunto derivante da playstation italia ce lo vediamo insieme Magari chillare così la gente Carina è come skin dai Non male non male ragazzi un bundle che diciamo non ha niente di eccezionale ma perché no è sicuramente un'ottima cosa che si può aggiungere alla collezione Ma andiamo avanti ragazzi con il prossimo argomento ed ovviamente ecco qua quello di cui vi parlavo ragazzi oggi è un grandissimo importantissimo giorno per la season numero nove Molti di noi oggi sbloccheranno il fort bite numero 90 questo ci dà come vi sto facendo vedere in questo momento la possibilità di ottenere finalmente la skin segreta della stagione che purtroppo come già è successo anche nella season precedente è già stata spoilerata ragazzi si tratta della skin singolarità Cos'è che ci fa notare questa immagine ragazzi che la skin ha due stili personalizzati quindi la prima che ha delle modifiche al vestiario e quella dietro invece che come vedete ha il casco vi ricordo che sbloccando questa skin ragazzi sbloccheremo anche automaticamente le due sfide per lo stile personalizzato è sempre di singolarità e se non ve lo ricordate dovrebbero arrivare secondo me non domani ma nella prossima settimana quella che ci spazia tra la stagione 9 e la stagione 10 dovrebbero arrivare ragazzi anche di stili personalizzati o meglio io so già dove sono i caschi in giro perché ci sono cinque caschi sparsi per la mappa che una volta raccolti regaleranno stili personalizzati ulteriori alla skin singolarità il primo ragazzi come vedete è un chiaro riferimento al cuddle team leader quindi l'orsacchiotto rosa ma abbiamo anche il riferimento alla skin alla deriva il drift lo abbiamo alla skin non mi ricordo a chi si ispira questo qua non me lo ricordo c'è quella del rex molto carina ragazzi verde e arancione e ce n'è anche un'altra che non ho in queste immagini che è quella del dur burger molto carina anche quella ocra azzurra e rossa insomma ragazzi non appena saranno disponibili le sfide saprete dove saranno tutti i caschi ma proseguiamo ragazzi con il prossimo argomento ed eccolo qua una cosa molto veloce skin rarissime per tutti i collezionisti ahimè queste non le potremo ottenere ragazzi sono le skin della brigade qualcosa ora non ricordo il nome corretto e sono le skin che verranno date solo ai qualificati di new york della world cup di fortnite queste dieci settimane che hanno visto i migliori giocatori del mondo darsi battaglia e tirarne fuori solamente una piccola manciata che si vedrà il 27 e il 28 luglio in quel di new york queste skin sono davvero tanta tanta roba ragazzi con tanto di piccone e deltaplano ma proseguiamo ragazzi negli argomenti interessanti e cacchio 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 c'è una baller la vedete ragazzi perché c'è una baller perché ragazzi ieri pomeriggio è successa una cosa ad un utente e per fortuna che ha clippato il replay e lo ha mostrato al mondo intero perché ragazzi c'è un hacker che riesce a fare un glitch un bug chiamatelo come cavolo vi pare che non è possibile replicare o lo spezzone video ed è assurdo anche epi games non sa come sia possibile questa cosa guardate ragazzi guardate che roba questo è il giocatore in questione guardate cosa succede c'è un tipo dietro con la palla ok lui appena sparato guarda adesso è fottutamente invisibile raga lui se lo killa ve lo faccio rivedere ma il tipo ha un glitch per uscire dalla palla e restare invisibile è assurdo è assurdo ragazzi è assurdo e per questo anche epi games sta indagando ovviamente su come sia possibile una cosa del genere se ci saranno degli aggiornamenti ve li dirò ovviamente e chiudiamo ragazzi il video di oggi con l'ultimo argomento il nostro arena in trio ragazzi il 13 e il 14 luglio ci saranno le qualifiche per i terzetti appunto per giocare in trio e i qualificati andranno direttamente a scontrarsi con dei pro player già pronti ad aspettarvi vittoria reale 10 punti dal secondo al quinto posto 7 punti dal sesto al decimo posto 5 punti undicesimo quindicesimo posto 3 punti ma anche un punto ogni eliminazione quindi ragazzi sappiamo che ci saranno i veicoli sappiamo che ci saranno le granate probabilmente aeree anche se secondo me saranno un poppy sappiamo che si giocherà il weekend del 13 e 14 luglio io vi ringrazio ragazzi per avere guardato anche oggi il video delle news mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo presto ciao